Questi sono Enea ed Emma, vero? C'è indovinato? Basta, dove andate? Andate via? Andate al centropista, dai! Eccoci qua, Enea ed Emma vi fanno ammellare una bella marzulcare la magnola in cinque parti queste sono le nuove generazioni, le nuove leve, quelli che porteranno poi avanti la nostra musica folkloristica ci siamo bimbi? Pronti? Si parte con mascotte in cinque parti, per voi Enea ed Emma Grazie! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti